A questo punto vorrei parlarvi riferendomi ai valori del movimento Zeitgeist, secondo il mio punto di vista su come potremo dare una svolta verso una società più umana, sostenibile ed equilibrata. Mentre molti all'interno dell'iniziativa Occupy propongono varie riforme dell'attuale sistema economico e politico, altri, come lo Zeitgeist Movement, cercano una riorganizzazione totale. Questo filmato non si propone di soffermarsi e spiegare in modo completo il pensiero presente, in merito alle osservazioni e proposte del movimento Zeitgeist. È sufficiente affermare che noi perseguiamo un sistema basato sulla gestione delle risorse e quale punto di partenza per tutte le decisioni industriali. Inoltre, sosteniamo che l'efficienza raggiunta dalla scienza e dalla tecnologia garantirà i bisogni di tutta la popolazione mondiale e creerà una reale sostenibilità. La realizzazione di questi elementi includerà ciò che noi chiamiamo modello economico basato sulle risorse. Per capire più chiaramente le basi di questa corrente di pensiero, suggerisco due libri. Uno è intitolato Critical Path di Buckminster Fuller e l'altro è The Best Death Money Can Buy di Jacques Fresco. Da questi testi il lettore dovrebbe cominciare a capire che l'attuale modello economico basato sulla finanza è intrinsecamente imperfetto e che nessuna variante di questo sistema risolverà mai i problemi reali che abbiamo di fronte. E se questo concetto viene accettato, cioè l'idea che sia necessario adottare un modello socio-economico completamente differente per soddisfare i bisogni reali della popolazione mondiale e diventare veramente ecosostenibili su questo pianeta, la domanda sorge spontanea. Come ci arriviamo? Secondo il mio personale punto di vista l'iniziativa Occupy Wall Street potrebbe essere l'inizio di una transizione che porti il paradigma attuale verso il nuovo. Considerando la sua naturale evoluzione, il movimento Occupy sembra essere molto vicino alla vera natura dei problemi che affrontiamo. Il fatto che questo atto di disprezzo stia accadendo senza limiti di frontiere e in certi casi senza neppure il rispetto del sistema politico stesso, attaccando propriamente il sistema finanziario, ci mostra un'incredibile nuova coscienza di massa. Il mio primo consiglio è quello di riunire i movimenti regionali in una sola entità globale attraverso i rappresentanti con i quali ogni regione mantiene un contatto. Credo che questo stia già succedendo. Le riunioni dovrebbero avvenire tra questi rappresentanti in modo da pianificare azioni concordate per rafforzare la partecipazione e l'unità globale. In secondo luogo, si dovrebbe prendere una decisione su quale sia la priorità. Mantenere il sistema attuale, riformandolo, oppure agire alla base per rimuoverlo del tutto. Ovviamente si prevede una fase di transizione che accumulerà entrambi gli scenari. In ogni caso, questi rappresentanti dovrebbero preparare una conferenza di occupazione mondiale in un luogo preciso per renderlo di dominio pubblico, dove vengano presentati i temi della riforma e, quindi, cercare riconoscimenti da parte del mondo della politica e dai cittadini. In caso di riforma, questo sarà il luogo in cui i gruppi regionali avranno guadagnato il riconoscimento e potranno riorganizzarsi per poter affrontare gli enti governativi di quella zona specifica. In caso di rinnovamento totale e dell'intenzione a eliminare il modello attuale ed instaurarne uno totalmente nuovo, come propone il movimento Zeitgeist, sarà necessario un impegno più radicale. Bisognerà creare un governo parallelo. Invece di sforzarsi per ottenere una poltrona al tavolo di governo, sarebbe più opportuno realizzarne uno nuovo, nel quale dovranno essere presenti sia i rappresentanti delle varie regioni, sia i relativi team legali e tecnici. Potremo entrare in molti dettagli su tutto ciò, ma per il momento non lo faremo. Alla fine, questo darà vita ad un'istituzione globale virtuale, che inizierà a preparare il nuovo sistema sociale, mentre quello vecchio continuerà a funzionare, ma verso un inevitabile declino, se verrà capito che tipo di sistema fallimentare sia e come mai a questo punto non possa più risorgere. Una volta che il modello sarà stato definito, si darà inizio ad una vasta sensibilizzazione delle coscienze riguardo a questa nuova entità governativa e su come essa lavori. Il punto di non ritorno si avrà una volta che la gente comprenderà il valore della nuova proposta sociale e quindi riconoscerà l'entità governativa stessa, alla quale, alla fine, darà priorità rispetto all'establishment politico precedente. Adesso, quello che ho appena esposto qui è estremamente generico e sono sicuro che provocherà parecchie domande. Voglio solo ipotizzare questo come un ragionamento a grandi linee su come potrebbe verificarsi una vera rivoluzione globale e quindi piantare questo seme di possibilità e riorganizzazione. Molte persone hanno parlato di cambiamenti. La domanda che rivolgo a voi è, siete davvero pronti a fare ciò che serve per ottenere questo cambiamento? Se volete saperne di più sul movimento Zeitgeist, visitate il sito thezeitgeistmovement.com. Abbiamo già più di mille gruppi locali in 70 paesi nel mondo che lavorano assieme per creare quel tipo di trasformazione sociale che ho appena descritto. Allora, se volete far parte di questo movimento, visitate il nostro sito, cliccate sul vostro paese e cercate il gruppo della vostra zona e se non c'è, createne uno. Grazie a tutti per l'attenzione.